La Regione Umbria ponga in essere tutte le azioni di propria competenza insieme alla Regione Marche, comprese le escursioni delle fideiussioni, intervenendo presso Governo, Anas e Quadrilatero, per garantire la ripresa dei lavori sulla Perugia Ancona, tutelando imprese e lavoratori che in questi mesi di diversi ruoli sono stati interessati alla realizzazione delle opere. Lo chiede la mozione integrata nel corso del dibattito d'aula, primo firmatario Barco Vinicio Guasticchi, sottoscritta e approvata da tutti i componenti dell'Assemblea Legislativa. L'atto di indirizzo chiede anche di intervenire presso ANAC e i parlamentari della Repubblica, affinché venga cambiata la normativa sugli appalti pubblici, che non tutela fino in fondo imprese e lavoratori, di sostenere le imprese e i lavoratori coinvolti nella vicenda presso il sistema del credito. La mozione è stata illustrata dal consigliere del PD Chiacchieroni, che ha spiegato che la richiesta di concordato da parte della ditta Staldi, assegnataria di un importante appalto della Quadrilatero anche di recente, sta creando gravissime ricadute nel tessuto economico del nostro territorio regionale. Molte imprese Umbre che hanno lavorato in subappalto oggi rischiano di non essere liquidate e la regione non può rimanere impassibile di fronte a questa dimostrazione di poca affidabilità finanziaria di un'impresa della Quadrilatero. Inoltre il sistema di tutela e controllo non ha strumenti idonei per monitorare e intervenire per evitare fallimenti e concordati in corso d'opera, che fanno calare un velo di non credibilità negli organi preposti per la gestione e il controllo di queste importanti opere viarie. La società Quadrilatero ha già liquidato svariati milioni di imprese assegnatari, sicuramente nella speranza che con quelle risorse si potessero liquidare i subappaltatori, anche se questo non è avvenuto. Ad oggi si prospetta una gravissima crisi economica per le aziende subappaltatrici, coinvolte con un reale rischio di fallimento che coinvolgerebbe centinaia di operai e decini di imprenditori Umbri. Anche il consigliere regionali Smacchi valuta positivamente la mozione unitaria approvata oggi dall'Assemblea di Palazzo Cesaroni. Ma il grado si tratti di un'opera interamente finanziata, aggiunge Smacchi, ci troviamo di fronte al terzo concordato sulla stessa infrastruttura, con la conseguenza che molte delle imprese Umbre che hanno lavorato in subappalto sui lotti assegnati a Dastaldi rischiano, dopo aver eseguito i lavori, e anticipato spese e costi di incappare in una nuova procedura fallimentare che potrebbe pregiudicare definitivamente la loro sopravvivenza.